ciao a tutti anche oggi io vi apparo insalata di noodle con i campari freschi questo menù facile solo 5 minuti ho passato tutto cominciamo prima io già ricandare la pannella adesso l'acqua la manda noi mettiamo i noodles nella borsa mettiamo dentro per un minuto mettiamo poco ok adesso il noodle è cotto noi mettiamo i campari freschi guardate un minuto un minuto i campari cotti adesso noi togliamo l'acqua ok lascia poco l'acqua e ci uiamo i fornelli adesso io voglio mettergli la salsa nella midden metterla tutto dentro questo solo campari freschi senza i maiali senza maiali di cane i cani di maiale ok chiamiamo poco adesso non mettiamo tutte i vedure vadati c'è ci ai pomodori freschi cipolli freschi cipolli freschi sedano freschi metti tutto e chiamiamo metti anche di zucchero guardate come guardi e poi chiamiamo poco facile questo io commetto pepoloncino piccante pochi quando chi non piacere piccante metti solo uno è fatto guardati adesso mettiamo la salsa di pece uno cucchiaio anche questo acqua di aio poco doci e poi noi mettiamo e questo che lotta io ho fatto pensi piccoli piccoli prima metti tutto insalata anche il limone io prendo il limone due limoni adesso mi piace adesso mi chiamo guardati è fatto insalata insalata con i campari buon appetito tutti ci vediamo prossimo video ciao a tutti 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 a tutti ciao a tutti Grazie a tutti